Ciao amici fiosini! Come state? Spero tutto 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 bene! Oggi andremo a fare un ASMR food quindi preparatevi uno snecchino così sgranottiecchiate con me andiamo ad assaggiare questi biscotti sentiamo come sono me li hanno regalati in omaggio al super valutato hanno un profumo strepitoso so allora guardate questi sono due biscottoni no biscottini sono fantastici quindi adesso li andrò a mangiare insieme a voi e poi vi dirò come sono no ragazzi voi non potete capire il profumo di questi biscotti sono meravigliosi così quindi la un po' di scivito un po' di scivito Sì, sì. a presto Allora ragazzi dentro Ambrouvetta Sono veramente Scusibili 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 Scusibili